Ciao ragazzi, in questo video andremo a ripassare brevemente Cavalcanti. Cavalcanti è uno di quei poeti che mostra al mondo quanto devastante sia la forza dell'amore. Se vi siete mai sentiti svuotati, se vi siete mai sentiti annientati, distrutti o devastati o paralizzati dall'amore, Cavalcanti è il poeta che fa per voi perché questo autore è riuscito a tradurre in parole e in immagini la forza devastante dell'amore. Per Cavalcanti l'amore è un'esperienza totalmente negativa, è un amore doloroso che si distanzia però da quelli che erano gli amori provenzali. Anche i poeti provenzali, se vi ricordate, soffrivano e provavano dolore perché erano lontani dalla donna amata oppure perché la desideravano talmente ardentemente ma senza poterla possedere. Cavalcanti invece inserisce all'interno delle sue posie anche degli elementi che vanno al di là della semplice riproposizione poetica dei fatti. Cavalcanti si appoggia alla filosofia e per questo viene considerato anche filosofo naturale da boccaccio per dare un fondamento alle sue convinzioni. In particolare nella canzone Donna me prega, che può essere considerata come un vero e proprio manifesto della sua ideologia amorosa, dichiara che l'amore proviene dalla scuritate. L'amore proviene dall'oscurità quindi, non ha nulla di così luminoso, di così bello nel momento in cui si cerca di conoscerlo davvero. L'amore proviene dalla stessa oscurità da cui proviene Marte, il dio della guerra. Attraverso queste semplici parole possiamo dunque capire come l'amore sia figlio dell'oscurità, come sia nato sotto il segno di Marte, cioè quindi sotto il segno della guerra e come di fatto vada a condannare l'uomo ad un conflitto, ad un dissidio interiore infinito. L'amore non può essere razionalmente conosciuto. Esiste cioè in noi un'anima sensitiva e per dire ciò Cavalcanti si rifà ad Aristotele. Esiste un'anima sensitiva che percepisce attraverso la vista la donna. A questo punto l'anima sensitiva genera un desiderio senza limiti nell'uomo. Questa immagine della donna viene in un certo senso idealizzata e arriva all'intelletto, all'intelletto che teoricamente dovrebbe poter contemplare l'amore. L'amore però, in quanto passione ossessiva e inappagabile, non può essere conosciuto dall'anima razionale, non può essere conosciuto dall'intelletto, perché fondamentalmente l'amore va a devastare le facoltà conoscitive dell'uomo, va in un certo senso ad avere la meglio su queste facoltà impedendo all'uomo di pensare, di concepire razionalmente questo amore. Per questo in Cavalcanti non troviamo la donna Angelo, non troviamo la donna che saluta e salva l'uomo, ma troviamo una donna che porta un amore che diventa esperienza di non conoscenza. L'uomo non riesce a conoscere se stesso grazie alla donna, l'uomo non riesce a conoscere realmente, a capire realmente il sentimento d'amore, l'uomo è impotente, è impotente e vive in una situazione in cui si trova costantemente a contatto con gli aspetti più incontrollabili e spaventosi della nostra interiorità. Una poesia di questo tipo, abbiamo detto, si appoggia sulla filosofia e oltre ad appoggiarsi sulla filosofia si poggia su una novità che è quella di un linguaggio amoroso che ha a fare con un lessico selezionato che presenta dei significati codificati e che spesso risulta essere di difficile interpretazione. In vita, Cavalcanti era stato amico di Dante, tra l'altro era stato addirittura condannato da Dante all'esilio, da Dante e ovviamente da altre persone. E Dante parla di lui nel Purgatorio. Nel canto 11 del Purgatorio, ai versi 97 e 99, Dante inserisce Cavalcanti, così come farà poi nel canto 26 con Guinizelli. Dante ci fa capire che tanto la poesia di Guinizelli quanto quella di Cavalcanti sono destinate ad essere superate da qualcuno che Dante dice l'uno e l'altro caccerà del nido. Dante quindi considera Cavalcanti come una sorta di fratello maggiore, come un poeta molto amato, molto stimato, ma destinato ad essere superato. Sarà il tempo a dare ragione insomma a Dante che infatti si affermerà come uno dei poeti più importanti della nostra storia della letteratura. Cavalcanti invece sarà rivalutato soltanto nel novecento. Bisogna però considerare che Cavalcanti rispetto a Dante professa, possiamo dire così, l'anima mortale, cioè per Cavalcanti non esiste l'immortalità dell'anima e quindi in un contesto come quello medievale queste affermazioni potevano insomma non piacere. Nella descrizione vi lascio i link ai due commenti delle due poesie che vi serviranno per il compito in classe.